ciao ragazzi buona giornata e bentornati anche quest'oggi sul mio canale oggi voglio parlare dell'ultimo acquisto come vedete questo è un piccolo forno portatile per cuocere le pizze a legna allora si può utilizzare per la cottura sia la legna ma anche il pellet il pellet però è un pellet che si chiama bio pellet serve appositamente per la cottura degli alimenti quindi non è un pellet normale diciamo quello per le stufe e niente il forno come vedete molto piccolo si può cuocere soltanto una pizza alla volta è un forno che è completamente costruito in acciaio ha una pietra refrattaria che è posta all'interno comunque degli accessori ne parleremo nel proseguo del video dove vi farò vedere tutti gli accessori che c'erano contenuti nella confezione allora dividerò il video in due parti faremo il primo video dove parliamo del del forno visto che ce ne è abbastanza da parlare altrimenti faremo il video troppo lungo e nel secondo video parleremo della cottura delle pizze anche lì ci sarà qualche dritta da darvi visto che ci vuole un po' di esperienza allora i primi consigli che vi do è quello e sono quelli di avere un mobile dove poterlo appoggiare il forno va posizionato a questa altezza più o meno di un metro per poter cuocere le pizze in maniera comoda è la pala bisogna procurarsi una pala più piccola perché è la pala che c'è contenuta nella confezione quindi quando comprerete il forno leggerete che c'è una pala al suo interno quindi pensate di essere a posto invece non è così questo perché perché la pala che c'è contenuta al suo interno è larga quasi quanto la larghezza del forno quindi cosa succede che potete inserire la pizza al suo interno però poi quando dovrete girarla e la pizza va girata questo perché perché all'inizio del forno e alla fine del forno ci sono quasi 80 gradi di differenza quindi la pizza bisognerà girarla per forza poi terzo consiglio che vi do è quello di procurarvi anche un termometro laser questo perché perché il termometro che c'è posizionato è come si chiama sopra al forno che è questo vi darà soltanto le gradazioni dell'aria che c'è contenuta nel forno ma non come si dice le gradazioni della pietra refrattaria è molto importante sapere anche la gradazione della pietra refrattaria questo perché perché se no le pizze verranno crude come si dice alla base all'inizio quando io non avevo il forno cuocevo prima due o tre come si dice focacce per vedere a che punto arrivava la gradazione poi comunque servirà sempre perché perché ogni pizza che cuocete ogni due pizze che cuocete la pietra refrattaria si raffredda quindi dovete aspettare qualche minuto quindi molto comodo anche questo tanto costa pochissimo io l'ho comprato su amazon in più allora la come si chiama la pala che avete il regalo è in acciaio quindi ha un po piccolissimo problema che se lasciate la pizza sopra più di un minuto cosa succede che il lumino del pomodoro vi farà incollare la pizza alla pala quindi quando andrete a scaricare la pizza sulla pietra refrattaria molte volte rimarrà incollata io avevo un tagliere in casa l'ho tagliato ho fatto diventare quel tagliere una pala di legno e questo problema non l'ho riscontrato addirittura posiziono la pizza sulla sulla pala in legno cuocio la l'altra pizza e quindi la pizza mi rimane addirittura tre minuti quattro anche sulla pala e niente non ho problemi riesco a scaricarla sulla pietra refrattaria in maniera molto comoda allora adesso cosa facciamo vi faccio vedere quello che c'era contenuto nella scatola e poi vi parlerò anche dei due o tre difettini che ho riscontrato ora diamo un'occhiata al contenuto della scatola chiaramente la pietra refrattaria come vedete non è appoggiata sulla base tramite questo supporto è stata sollevata due centimetri questo serve chiaramente per rischialdare la parte sotto della pietra una paletta per inserire il pellet se vogliamo utilizzare il pellet per cuocere la pizza chiaramente il libretto delle istruzioni poi una griglia così possiamo utilizzare il forno anche per cuocere la carne e questa è una vaschetta per la raccolta dei grassi come vedete per togliere sia la vaschetta che la griglia si può utilizzare questo supporto diamo un'occhiata un po più da vicino al forno lo questo è lo sportello per aprire il forno chiaramente e da qui partiamo con uno dei problemi che riscontrato come vedete il manico tende sempre a svitarsi apertura del forno e chiusura appoggiamo lo sportello in alto e spingiamo qui in alto ci sono posti due ganci che servono per bloccare lo sportello come vedete rimane ben saldo termometro che serve per vedere la gradazione che c'è all'interno del forno come vedete il forno è stato costruito due camere una camera e due camere la seconda camera chiaramente serve per tenere il caldo all'interno della prima nella seconda lamiera troviamo tantissime fessure come vedete queste servono chiaramente per far incanalare il fumo in fondo troviamo una lamiera che è posta a 30 gradi questa duplice funzione come fermo per il bracere e poi chiaramente per far difluire il fuoco verso l'alto chiaramente per non bruciare la pizza poi comunque in un video vi faccio vedere come lavora il fuoco questa è la parte posteriore con suo bracere il bracere molto solido è costruito veramente bene è molto più spesso come acciaio rispetto alla costruzione del forno come vedete alla raccolta per le ceneri perché chiaramente noi avremo sempre bisogno del fuoco quindi cosa facciamo ogni tanto dobbiamo appicchiettare e far cadere la brace in basso che rimarrà appoggiata qui questo è il problema che ho riscontrato come vedete mi stanno saltando tutti i rivetti i rivetti sono troppo piccoli e me ne sono già saltati uno due tre e uno quattro posto all'interno secondo me il problema sono che i rivetti sono troppo piccoli sono rivetti del tre perché ho notato che tutti i forni sono costruiti con i rivetti ma tutti hanno i rivetti del 5 o del 6 questi sono troppo piccoli quindi adesso non so se comprare dei rivetti più grossi e vedere se risolviamo il problema o invece mettere delle viti le viti sono esteticamente meno belle però avranno una tenuta maggiore come vedete il bracere è completamente fissato con le viti e rimane bello stabile ho riscontrato questo problema comunque anche qui in alto dove c'è il collegamento del tubo come vedete si muove quindi vuol dire che i rivetti a furia di togliere e inserire il tubo si stanno staccando prima mi sono dimenticato di farvi vedere la pala che c'è in dotazione come vedete questa è in acciaio a un diametro di 30 centimetri e un comodo manico in gomma per non farvi scottare quando tirerete fuori la pizza poi mi sono dimenticato di parlarvi del prezzo è la cosa che di solito parlo prima è all'inizio del video perché se no altrimenti mandate mille mail il prezzo è 190 euro comprese spese ispezioni con DHL e anche l'iva tedesca perché l'ho comprato su un sito tedesco vi arriverà in una settimana vi lascio qua in basso il link in descrizione così se volete andare a vedere il forno oppure comprarlo direttamente non ci sono problemi come legno utilizzo dei bricchetti come questi come vedete sono in faggio li recupero dal mio vicino che fa il falegname e lui li butta quindi questi sono scarto e invece per me va benissimo perché secondo me il faggio è legno migliore per cuocere la pizza perché è un legno molto duro quindi dura molto al fuoco fa poca cenere soprattutto uno scoppietta così almeno non si sporca la pizza come vedete da qua in alto il come si chiama il lavaggio è semplicissimo io utilizzo la canna dell'acqua quindi lo lavo direttamente dove cuocio anche le pizze così non ci sono problemi siamo giunti anche quest'oggi al termine del video spero che vi sia piaciuto se è così mettete un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto così quando farò il secondo video dove parlerò della cottura delle pizze starete informati con una notifica buona domenica